Cara telespettatrice, che cosa preparerai per cena stasera per i tuoi cari? Una fresca insalata? Delle appetitose tartine? Delle gustose verdure o un fantasioso dessert? Ma questo sai bene cosa significa, lavorare per ore in cucina con tanti strumenti differenti, ma è ora che tutto questo finisca, perché è nato uno strumento innovativo e multiuso che ti permetterà di preparare questi piatti facilmente in pochissimo tempo. Triple Slicer è una vera rivoluzione, è il primo utensile da cucina con tre affilatissime lame rimovibili che rende possibile qualsiasi desiderio culinario. Taglia, sbuccia, affetta, grattugia e molto altro ancora. Puoi fare tutto questo con un solo semplice utensile, basta girare la ruota in modo da posizionare la lama nella posizione prescelta, ora potete avere delle fette spesse o sottili, tagliare a striscioline o alla julienne, facilmente e in pochi secondi. Solo il favoloso Triple Slicer può farlo! Ma c'è di più, solo oggi potrai avere il sensazionale modello con un set complementare e come sempre con ECL Shop avrai tutto questo al miglior prezzo disponibile. Quindi resta con noi! Grazie ad una mini telecamera potremo vedere per la prima volta la precisione del taglio di Triple Slicer. Joseph Pepe Rossler e l'affascinante Christina Knebel ti mostreranno perché Triple Slicer non può assolutamente mancare nella tua cucina! Benvenuti nella nostra cucina, avvicinati perché oggi Pepe ci ha portato qualcosa di eccezionale, vero? Ebbene sì, signore e signori, Triple Slicer è davvero eccezionale perché cambierà radicalmente il vostro modo di cucinare. È un utensile multiuso che può fare di tutto, sbucciare o tagliare con una lama seghettata temperata. È testata per il ghiaccio, una lama per tagliare julienne e un'altra meravigliosa lama in ceramica per tagliare fette sottili o più spesse. Tutte si innestano su una struttura in acciaio inossidabile e la manopola ti permette di regolare lo spessore del taglio secondo l'estro del momento. L'impugnatura è disegnata sia per destrorsi che mancini ed è composta da un'anima ultra resistente per sostenere il sistema tre lami in acciaio di Triple Slicer. È da una parte in gomma siliconata soffice e antiscivolo, ma iniziamo a parlare della lama temperata a ghiaccio. Non si danneggia ed è adatta a ogni tipo di taglio, potrete sbucciare qualsiasi cosa. Non importa se grande, piccolo, duro o morbido e lo fa in entrambe le direzioni. Guarda Cristina, sollevi qui dietro, tiri giù e pensi non sia successo nulla, ma in realtà ha già tagliato una parte e sei già pronta per l'altra. Questo significa che in futuro potrete sbucciare qualsiasi cosa senza sprecare nulla. Triple Slicer vi aiuterà a realizzare le vostre idee con grandi risultati. Qualsiasi cosa abbiate in mente con Triple Slicer, nella vostra cucina non avrete più bisogno di nessun altro strumento, non avrete bisogno di corrente elettrica, non ci sono costi aggiuntivi, tagliate, sbucciate ciò che volete. Basta girare Triple Slicer, come vedete la lama seghettata è rivolta verso l'alto e siete pronti per tagliare delle patatine da friggere in poco tempo. E non è richiesta una particolare abilità, non mettete più cerotti sulle dita perché Triple Slicer è sicuro e facile da usare. Le vostre dita non saranno più a rischio perché lo sforzo è ridotto al minimo. Solo il favoloso Triple Slicer può farlo. Ma c'è di più, solo oggi potrai avere il sensazionale modello con un set complementare. E come sempre, con ECL Shop avrai tutto questo al miglior prezzo disponibile. Se ordini immediatamente, riceverai anche il convenientissimo set da 50 contenitori con coperchio ermetico. Sarà tuo con l'acquisto di Triple Slicer, senza nessun costo aggiuntivo. Chiama adesso e ordina comodamente online sul nostro sito www.eclshop.tv Date un'occhiata, le patatine sono tutte uguali, uniformi e tagliate in maniera pulita. E basta un semplice movimento del polso e un click per avere pronta la lama per tagliare alla julienne. Prendo il cetriolo e non c'è bisogno di alcuna abilità, basta solo spingere. Ed ecco che abbiamo le nostre striscioline, signore e signori. Non avete mai ottenuto delle striscioline così perfette. E non esiste nessun altro utensile per tagliare delle striscioline così lunghe. È possibile solo a mano, ma richiede grande abilità. E guardate qui, un'insalata di cetrioli tagliate in modo completamente diverso. Conosco persone che da quando hanno Triple Slicer tagliano alla julienne 3, 4, 5 cetrioli al giorno. Non perché gli serve, ma perché è troppo divertente. Guardate, signore e signori, questa è qualità. Questa è una precisione di taglio che fino ad ora avete solamente sognato. Ma ora vi mostrerò per la prima volta come si ottiene un record del mondo. Tagliare una barbabietola in strisce che arrivano ad essere lunghe. Ben 60 centimetri. Inizio dalla cima e tiro giù. Le strisce avranno la stessa lunghezza dell'intera verdura. Questo è sensazionale e non richiede alcuna abilità. E vi assicuro che una volta che avrete Triple Slicer a casa vostra, vorrete utilizzarlo per stupire i vostri cari con un'insalata che li stupirà per l'aspetto grandioso. Per la prima volta nella vostra vita, avrete in casa uno strumento che vi darà risultati eccezionali, senza chiedere alcuna abilità. Da oggi in poi puoi dimenticare tutte quelle complicate e laboriose ore passate in cucina. Da oggi hai bisogno solo di Triple Slicer di Livington. È comodo. È sempre a disposizione, dato che entra perfettamente in qualsiasi cassetto. E puoi scegliere anche tra tre meravigliosi colori. Avete il verde, il nero perché ha gusti più classici, o il rosso. E allora, quale sarà il tuo? Anche tu puoi trasformarti in uno chef professionista con Triple Slicer. Il più innovativo e compatto strumento da cucina multiuso esistente. Una lama seghettata, temperata a ghiaccio e olio. Una lama per il taglio a la julienne, che ti permetterà di realizzare sontuose insalate. E una lama in ceramica, per tagliare strisce più o meno sottili. Taglia, sbuccia, affetta, grattugia e molto molto altro. In sicurezza e in tempo record. Fette sottili o più spesse, striscioline più o meno lunghe, taglio alla julienne, tutto in pochi secondi. Nemmeno uno chef professionista può farlo più velocemente. E non importa se sei destrorso o mancino. Chiama adesso! Ordina anche per te il rivoluzionario Triple Slicer con la sua base girevole e la comoda impugnatura formata da due componenti, che garantiscono una sicura maneggevolezza. Sarà tuo per questo incredibile prezzo introduttivo ECL Shop. Ma devi chiamare durante questo programma. Triple Slicer ti aiuterà a realizzare decorazioni che lasceranno la tua famiglia letteralmente a bocca aperta. E con noi non spenderai una fortuna. Se chiami ora, infatti, l'indispensabile Triple Slicer di ECL Shop, sarà tuo a questo incredibile prezzo lancio. Ma è qui che arriva l'incredibile offerta. Se ordini immediatamente, riceverai anche il convenientissimo set da 50 contenitori con coperchio ermetico per conservare, scaldare, servire e portare via con te i tuoi cibi e snack preferiti. Hai capito bene! Sarà tuo con l'acquisto di Triple Slicer senza nessun costo aggiuntivo, in omaggio. Il set completo Triple Slicer 3 in 1 è disponibile in una fresca tonalità di verde, in rosso o in nero. E grazie a questa fantastica promozione non devi spendere 90, 80 o 70 euro perché l'indispensabile Triple Slicer sarà tuo all'incredibile prezzo che vedi sullo schermo. Esatto! Non aspettare oltre! L'offerta è limitata e disponibile solo per pochi giorni. Chiama adesso e ordina comodamente online sul nostro sito www.eclshop.tv Con Triple Slicer potete tagliare alla julienne persino il formaggio in modo che da casa possiate vedere da vicino. Abbiamo, signori e signore, una nuova telecamera utilizzata per la prima volta in una televendita. È così che si taglia alla julienne il formaggio. È una gioia per gli occhi! Non esiste nessuno strumento professionale che possa fare questo. Tagliare il formaggio per un'insalata svizzera è facilissimo anche se è la prima volta. Lo adorerete, lo userete ancora e ancora. È facile, veloce, semplice e potete tagliare delle strisce così precise che faranno venire l'acquolina in bocca. E se vi piace un tipo di taglio più classico non c'è nessun problema, basta scegliere il lato adatto quello con la lama seghettata. Ora ho una sola semplice richiesta. Per favore, prendi questo strumento nella tua mano la destra o la sinistra, quella con cui ti senti più comoda. Ok. E cortesemente prova a tagliare il formaggio. Chiunque può farlo. Ed ecco una striscia perfetta. Ora, Peppy, devo confessarti una cosa. L'ho fatto con la sinistra, anche se non sono mancina. Ma certamente. Con la sinistra è andata la grande. E anche con la destra, è lo stesso. Sensazionale. E potete misurarle con una livella. Vedrete che le fette sono perfette. In futuro, quindi, quando vorrete il formaggio a strisce non lo comprerete più già tagliato ma è intero, che dura più a lungo e costa molto, molto meno. E guardate, signore e signori, ogni fetta è identica all'altra e hanno lo stesso spessore, sono precise e sembrano deliziose. Potete addirittura verificare con una livella che è possibile tagliare delle fette di formaggio così precise. Guardate, ora stiamo rasando il parmigiano. Non avrete bisogno di comprare lo strumento apposito per rasare il parmigiano o il tartufo. Triple Slicer è perfetto anche per questo. E per favore, date un'occhiata a questo, signore e signori. Non è possibile farlo con nessun altro utensile da cucina al mondo. Forse magari potete averlo sognato, ma farlo realmente è possibile solo adesso con Triple Slicer. Perché con lui tutto è possibile, su e giù, avanti e indietro. Tutto viene tagliato alla perfezione. Hai visto quanto è semplice? E che risultati incredibili! Da questo momento, con Triple Slicer, puoi fare tutto questo anche tu. Con tre lame differenti hai uno strumento versatile e multiuso. Puoi tagliare, sbucciare, rasare, tagliare fette sottili o più spesse, strisce alla julienne più o meno lunghe, tutto ciò che vuoi. Non potrai più farne a meno. Davvero, non avrai più bisogno di nient'altro. Quindi chiama e porta Triple Slicer anche a casa tua. Chiama adesso! Ordina anche per te il rivoluzionario Triple Slicer con la sua base girevole e la comoda impugnatura formata da due componenti che garantiscono una sicura maneggevolezza. Sarà tuo per questo incredibile prezzo introduttivo e CL Shop. Ma devi chiamare durante questo programma. Triple Slicer ti aiuterà a realizzare decorazioni che lasceranno la tua famiglia letteralmente a bocca aperta. E con noi non spenderai una fortuna. Se chiami ora infatti l'indispensabile Triple Slicer di CL Shop, sarà tuo a questo incredibile prezzo lancio. Ma è qui che arriva l'incredibile offerta. Se ordini immediatamente, riceverai anche il convenientissimo set da 50 contenitori con coperchio ermetico per conservare, scaldare, servire e portare via con te i tuoi cibi e snack preferiti. Hai capito bene! Sarà tuo con l'acquisto di Triple Slicer senza nessun costo aggiuntivo, in omaggio. Il set completo Triple Slicer 3 in 1 è disponibile in una fresca tonalità di verde, in rosso o in nero. E grazie a questa fantastica promozione non devi spendere 90, 80 o 70 euro perché l'indispensabile Triple Slicer sarà tuo all'incredibile prezzo che vedi sullo schermo. Esatto! Non aspettare oltre! L'offerta è limitata e disponibile solo per pochi giorni. Chiama adesso e ordina comodamente online sul nostro sito www.iclshop.tv Vi è mai capitato di trascorrere inutilmente ore e ore in cucina per tagliare e affettare? Se la risposta è sì, sappiate che è stata l'ultima volta. Possiamo tagliare direttamente nella pentola e tutto sarà sempre perfetto. Adesso guardate da vicino. Basta farlo scorrere e si ottengono dei piccoli dischi di verdure. E adesso utilizziamo Triple Slicer con la nostra speciale videocamera per vedere come funziona esattamente. Parto con l'indistruttibile lama seghettata e vado a tagliare per poi gettare direttamente nell'olio d'oliva. Ogni fetta è identica alla successiva e si cuociono molto velocemente. Più sottile e uniforme è il taglio, migliore è il risultato. Non importa quanto gli ingredienti siano duri e se volete dei coloratissimi spaghetti alle verdure basta girare la manopola e siamo pronti per tagliare di nuovo striscioline. Buttate le striscioline nell'acqua di cottura degli spaghetti durante gli ultimi due minuti e il risultato sarà gustoso e incredibilmente sano. Si cuoceranno perfettamente perché hanno tutte lo stesso spessore e poi basterà scolare il tutto per avere un delizioso piatto di spaghetti alle verdure. Signori e signore, se avete solo sognato di preparare dei piatti così, è il momento anche per voi di trasformarvi in grandi chef col favoloso Livingstone Triple Slicer. Ma un'altra incredibile caratteristica di Triple Slicer è la facilità con cui si pulisce. Basta metterlo sotto l'acqua corrente o in lavastoviglie grazie all'estrema durevolezza e alla qualità dei materiali di cui è composto. Forse a casa avete qualche vecchio sbucciatore col manico in legno o di metallo, quindi già sapete quanto sia scomodo non poterli mettere in lavastoviglie. Ma guardate Triple Slicer, è davvero l'emblema della qualità e della funzionalità. Triple Slicer è una vera rivoluzione. È il primo utensile da cucina con tre affilatissime lame rimovibili che rende possibile qualsiasi desiderio culinario. Taglia, sbuccia, affetta, grattugia e molto altro ancora. Puoi fare tutto questo con un solo semplice utensile. Basta girare la ruota in modo da posizionare la lama nella posizione prescelta. Ora potete avere delle fette spesse o sottili, tagliare a striscioline o alla julienne. Facilmente è in pochi secondi. Solo il favoloso Triple Slicer può farlo. Ma c'è di più. Solo oggi potrai avere il sensazionale modello con un set complementare. E come sempre, con ECL Shop avrai tutto questo al miglior prezzo disponibile. Se ordini immediatamente, riceverai anche il convenientissimo set da 50 contenitori con coperchio ermetico. Sarà tuo con l'acquisto di Triple Slicer, senza nessun costo aggiuntivo. Chiama adesso e ordina comodamente online sul nostro sito www.eclshop.tv 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 www.eclshop.tv